Cattura aerea Trasmettitore Ok Eccola lì Quindi bisogna prima Trovare il trasfermato E il trasmettitore Per quello Bisogna andare in giro A cercare il trasmettitore Vai Ci siamo Lillian Barnett Squadra di ricognizione 21 West Siamo oltre il centro profughi Capitol Records Quello per chi era considerato abile era più un centro di reclutazione Ok, primo step abbiamo fatto Non ha più importanza Ormai è un rudere Divorato dallo sciamo Ma l'USRC si guarderà bene Dalla raccontarlo alla gente Ehi, speriamo in barna galea Ues No, no, ben levato Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Non nell'operazione fregatoria Terra No, 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 no Lasciatemi Eccola Attiva Oh, tutto distrutto Quanti combatterebbero per una causa persa Se sapessero come stanno le cose Quegli ultimi mesi E' un'altra Cattura aerea nord Complenata Grazie a tutti